Eraclase X-Terre è il filo di ultima generazione che cambia il tuo modo di concepire la pesca con i microspoon. Il suo affondamento, unito alla bassa percentuale di allungamento, ti trasmettono il più impercettibile dei movimenti. Riuscirai quindi a far nuotare in modo perfetto ogni microspoon, avvertendo anche le mangiate più sudole. Grazie alle nuove tecnologie, questo poliester ha un'ottima resistenza all'abresione. La sua peculiarità è essere un filo rigido con poca memoria, quindi sensibilissimo, facile da imbobinare e ottimo da utilizzare tutto l'anno. Con X-Terre conseguirai gli obiettivi che prima ti sembravano irraggiungibili. Grazie a tutti.